Qual è il problema, scusa? Ah, io ho prenduto una tutta naturale. A Ginova c'è il mare. Eh, qua non c'è, sai com'è? C'è la bassetta di nervi, ci sono gli spritz. Sì. In serio penso che io e lo chef rimboccheremo a fare quella roba. Eh? In serio penso che io e lo chef ritorneremo a fare quella roba. Dai! Molto chiedo. E poi andiamo da qualche parte a far serate. Ah, già no. Dai! Esistono? Lì esistono le serate? Sì. Andiamo anche a Santa. Ma ci siamo stati l'ultima volta, no? Non l'abbiamo vista. No, è Santa Portofino. Eh, non ci siamo andati? No. È dove era, si può, a 40 minuti, così. Sara, 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 Sara. Dovete vederla qui. Mi hai portato in giro, non sapevi manco tu dove stavamo. Ma non è vero? Sì. Anche voi vi fidate di guida turistica, Rebecca. Eh, infatti abbiamo sbagliato. Ah, miau. Ciao. 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 Ti saluto che devo andare. Dai, io. Bello. Ormai. Più. Eh? Non ci vedevo mai più. Menomale. Ciao. Dai, ciao, miau. Miau, miau. Ciao tutti, amici. Ah, mi amo. Perché famigliavo. Ma chi sports padrone? Boh, eh, io ero sempre forte. Monico piace. Ciao, tutti. Ah, fa partene. Bye, bah, bello. Bye. Grazie.